Sulle colline del Chianti, precisamente a Radden Chianti, ha prodato Céline, il marchio francese con oltre 120 negozi nel mondo, leader nel settore della pelletteria. Raddoppia così la sua presenza in Toscana con un accordo di collaborazione di 5 anni con la Regione per le future opportunità di sviluppo, formazione e progetti di ricerca e innovazione attraverso l'industria 4.0. In questo noi ci abbiamo creduto, crediamo che possa portare buona occupazione e ci impegniamo ad accompagnare percorsi di formazione professionale perché qui ci vuole una elevata attitudine, una manualità attenta perché si produce l'eccellenza. Non ci possono essere sbavature, non ci possono essere cadute di tensione, sono mercati verso i quali ci si rivolge estremamente competitivi e bisogna che ci sia il massimo. Questo protocollo è uno dei risultati di Invest in Toscani. Questo ci riempie di soddisfazione, è un modello virtuoso, riteniamo che l'accompagnamento delle grandi aziende, grandi marchi internazionali all'insediamento, al loro insediamento, al consolidamento in Toscana sia una delle nostre missioni. La francese Selinge acconta una manifattura a greve inchianti con un laboratorio di artigianato di alto livello dove lavorano 250 addetti. Nella nuova sede a Radda Inchianti lavoreranno entro la fine del 2018 90 pellettieri. Quindi anche questa è un'opportunità per dare ai giovani la possibilità di rimanere sul territorio e di raggiungere quelle aspirazioni che giustamente devono avere. Ed è un diritto e un dovere che devono avere queste aspirazioni. E noi è un dovere cercare le condizioni per farle realizzare queste aspirazioni. La nuova manifattura che nascerà con la demolizione e la bonifica di una vecchia fabbrica già esistente si estenderà per 5200 metri quadri.